Diventare cittadini europei a tutti gli effetti perché più Europa significa più Italia. Hanno insistito su questo concetto i candidati di più Europa con Emma Bonino, la lista formata anche dal Centro Democratico di Bruno Tabacci, che fa parte dell'alleanza A4 di centrosinistra. Il piacentino Fabrizio Faimali, secondo al plurinominale del Senato, ed Elena Torri, bolognese, capolista sempre al plurinominale del Senato. Ecco come si è espressa Elena Torri sul programma. Per noi ciò che è importante è un'adesione forte a questa Europa, cercando di essere sempre più protagonisti in questo momento particolare in cui gli assetti si stanno ridefinendo. Noi vogliamo essere attori fondamentali della ridefinizione di questi equilibri, quindi più Europa per noi è fondamentale. È una lista che è sicuramente in coalizione con il centrosinistra, una coalizione che ha scelto il consenso di responsabilità, ma che ha sicuramente dei punti suoi particolari che sta portando avanti con grande forza. In modo particolare sono temi economici, ci appoggiamo tantissimo a ciò che hanno portato avanti il ministro Calenda Bentivogli per quello che riguarda il nuovo intervento sull'azienda, sull'impresa. Per noi è fondamentale perché soltanto da lì si può ripartire, con una grandissima però attenzione ai valori e ai valori sociali e anche alla fragilità, perché riteniamo che l'Italia non sia fatta soltanto di aziende che funzionano, che vanno bene, che hanno un futuro, ma anche di tante debolezze, sia come aziende ma anche come persone, che vanno tenute in assoluta considerazione.